Un caro saluto da Mario Giulianci e agli amici di Qui Cosenza. Che tempo farà in questo fine settimana e nella prossima settimana? Ebbene, l'alta pressione che insiste sulla penisola da più di 10 giorni si guiderà ancora a bracciare tutta l'Italia, quindi anche Cosenza e provincia. Ma alta pressione significa bel tempo, forse vi farà piacere sentirlo dire, ma attenzione, alta pressione significa anche assenza di pioggia e quindi si aggraverà la siccità Catanaglia, tutta la penisola e anche Salerno e provincia. Per di più le temperature, che in questo periodo dovrebbero essere nei valori massimi intorno a 20-23 gradi, in realtà saranno un po' più elevate sia su Cosenza che provincia perché oscilleranno tra i 23 e i 26 gradi, 23 lungo le coste, 26 nelle zone interne. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giulianci.